Io vorrei chiedere se è possibile sospendere una di questi lavori, infatti per decidere se separare l'approvazione del progetto da quella dell'affidamento e quindi del generale, approvare solo il punto 1 della del generale. Io per questo le chiederemo se è possibile far sospendere un po' di un punto di vista. Quindi la votata ma bisogna fare la verifica del ruolo regale, quindi chiedo alla dottoressa Pugli di fare questa verifica, se è positiva, passiamo alla votazione del progetto. Prego. Capaccio Carlo Benzera Gianfranca Canetti Baleia Lavorio Loretto Orpiero Loretto Benzera Gianfranca Barino Chiara Benzera Gianfranca Baleia Baleia Barino Chiara Baleia Parodi Diego Russo Antonio assente Re Paolo assente D'Agostino Esther assente Ipona Taga assente Montesano Paolo Gatti Cristina Lazzarini Giovanni Figliaccia Riccardo assente Saluto Roberto Annonella assente D'Agostino Gianfranco assente Danisa Tonella assente Aquaronita assente Poi Lucchiera assente Crociola Luca assente Fossac Sette assente Rosso Gianfranco assente Servani Marco assente Crociola assente Casale è stato assente Non c'è nulla di casa Sospendiamo per 10 minuti La seduta per poi Rifare il cappello